L'area archeologica di Santa Teresa di Spoltore diventa di proprietà comunale. Il vuoto in consiglio ha ufficializzato il passaggio di proprietà a titolo gratuito del terreno. Negli ultimi vent'anni è stato al centro di importanti campagne di scavo, assieme ad una serie di reperti, alcuni dei quali attualmente nel deposito provinciale archeologico di Caprara sono stati rintracciati i perimetri esatti dell'impianto produttivo presente in età romana. L'amministrazione comunale ha lavorato anche per vincolare archeologicamente l'area. La procedura si è conclusa il 29 gennaio 2019 con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Abruzzo del Ministero per i beni e le attività culturali. La proprietà pubblica del sito significa in sostanza che sarà il comune ad autorizzare gli accessi. Il prossimo obiettivo è fare in modo che gli scavi riprendano. Si tratta di uno dei siti archeologici più importanti per quanto riguarda la costa abruzzese. Attualmente appare abbandonato ma è da oggi che il comune ne ha tutti gli effetti responsabile, spiega la consigliera Cinzia Berardinelli che già nel precedente mandato aveva avuto l'alle delega ai beni storici archeologici. Nell'ottica di una nuova gestione dell'area è stata firmata anche una convinzione con la soprintendenza e dell'università.